Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è un bellissimo motivo che è abbastanza difficile da realizzare, soprattutto per le principianti. Naturalmente per chi è già avanti con il lavoro a maglia è un motivo che si può assolutamente realizzare. Non è ovviamente semplicissimo, però ce la possiamo fare. Allora, sul davanti si presenta in questo modo. Quindi abbiamo una sorta di trecciolina e poi questo motivo che, come vedete, è particolare perché ha ovviamente dei fili. Sul dietro invece si presenta in questo modo. Allora, il motivo è formato da 15 maglie più 5. Quindi sul ferro andremo a montare 15 maglie, 15 maglie, 15 maglie più 5, alle quali aggiungiamo le 4 di vivagno che formano il bordo. In altezza il motivo si realizza in 12 ferri. In questo caso io ho fatto tre motivi, quindi uno, due e tre. E' un motivo che possiamo utilizzare per qualsiasi cosa. Nel senso che potremmo utilizzarlo per una copertina, per delle sciarpe, per un cardigan, per un maglione. Dipende dalla nostra fantasia e da quello che più ci piace. Generalmente io, quando vi faccio i video, non vi dico mai per che cosa utilizzare i motivi. Per il semplice fatto che penso che qualsiasi tipo di motivo si adatta bene a qualsiasi tipo di modellino noi vogliamo fare. Generalmente io non lo dico proprio per questo motivo, però siccome alcuni di voi me l'hanno chiesto, da oggi penso che ogni volta che vi farò vedere qualche modellino, vi indicherò più o meno per che cosa potreste utilizzarlo. Detto questo, andiamo direttamente a vedere come si procede. Ho montato sul ferro un totale di 54 maglie, perché il motivo è formato da 15 maglie più 5. Sono andato a fare tre motivi, quindi 15, 15, 15 più 5, più le 4 di vivagno, due per ogni lato, che andranno a formare il bordino. Andiamo a lavorare il primo ferro e un solo motivo. Quindi, primo ferro, vivagno, vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno e partiamo. Un rovescio. Adesso abbiamo tre maglie. Prendiamo la terza maglia, con il ferro di destra, la accavalliamo sopra le altre due, e andiamo a lavorare un diritto, un gettato, e un diritto. Un rovescio. Quattro diritti. Uno, due, tre, quattro. Un gettato. Una diminuzione semplice. Spostiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoriamo la seconda maglia a dritto, e accavalliamo la prima sopra la seconda. Quattro diritti. Uno, due, tre, e quattro. Ripetiamo questo motivo. Chiudo il ferro con un rovescio. solleviamo la terza maglia, la accavalliamo sopra le altre due, lavoriamo un diritto, un gettato e un diritto, e chiudiamo con un rovescio. E ovviamente il vivagno. Secondo ferro. lavoriamo il vivagno. Un diritto. Tre rovesci. Uno, due, e tre. E un diritto. Andiamo a ripetere quello che è il motivo centrale. Dieci rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci. Un diritto. Tre rovesci. Uno, due, tre. Un diritto. Andiamo a ripetere questo motivo. Terzo ferro. Vivagno. un rovescio. Un rovescio. Tre diritti. Uno, due, e tre. Un rovescio. Cinque diritti. Uno, due, tre, quattro, e cinque. Un gettato. Una diminuzione semplice. tre diritti. Un rovescio. Tre diritti. Vado a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un rovescio, tre diritti, e un rovescio. E naturalmente il vivagno. Quarto ferro. Vivagno. Vivagno. Un diritto. Tre rovesci. Uno, due, tre. Un diritto. Andiamo a ripetere il motivo centrale. Dieci rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci. Un diritto. Tre rovesci. E un diritto. Andiamo a ripetere questo motivo. Quinto ferro. Vivagno. Un rovescio. Raccolgo la terza maglia e la cavallo sopra le altre due. Lavoriamo un diritto, un giattato e un diritto. Un rovescio. Sei diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, e sei. Un gettato. Una diminuzione semplice. Due diritti. Ripetiamo questo motivo. Chiudo il ferro con un rovescio. A cavallo la terza maglia sopra le altre due. Lavoriamo un diritto, un gettato e un diritto. Un rovescio. E il vivagno. Sesto ferro. Vivagno. Un diritto. Tre rovesci. E un diritto. Andiamo a lavorare il motivo centrale. Dieci rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci. Un diritto. Tre rovesci. E un diritto. Andiamo a ripetere il motivo centrale. Settimo ferro. Vivagno. Un rovescio. Tre diritti. Uno, due, e tre. Un rovescio. Sette diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, e sette. Un gettato. Una diminuzione semplice. Un diritto. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un rovescio. Tre diritti. E un rovescio. Naturalmente il vivagno. un diritto. Un diritto. Un diritto. Un diritto. Un diritto. Andiamo a ripetere il motivo centrale. 10 rovescio. 10 rovesci. due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci. Un diritto. Tre rovesci. Uno, due, tre. Un diritto. Andiamo a ripetere questo motivo. Nono ferro. Vivagno. Un rovescio. Sollevo la terza maglia. La cavallo sopra le due. E lavoriamo un diritto, un gettato, e un diritto. Un rovescio. otto diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e otto. Un gettato. Una diminuzione semplice. Ripetiamo questo motivo. Chiudo il ferro con un rovescio. Sposto la terza maglia e la cavallo sopra le altre due. Un diritto, un gettato e un diritto. E un rovescio. E il vivagno. Decimo ferro. Vivagno. Un diritto. Tre rovesci. Uno, due, tre. Un diritto. Vado a ripetere il motivo centrale. Dieci rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci. Un diritto. Tre rovesci. e un diritto. Andiamo a ripetere questo motivo. Undicesimo ferro. Vivagno. Un rovescio. Tre diritti. Uno, due, tre. Un rovescio. Adesso. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente creare questo motivo. Allora, per creare questo motivo, voi vedete che qui abbiamo dei buchini. Uno, due, tre, quattro, e cinque. Cosa dobbiamo fare? Con il ferro di destra entriamo praticamente nel primo buco. Ok? Qua sotto. Andiamo a fare un diritto. Ok? Un diritto. E lo facciamo uscire. in questo modo. Lasciate un bel po' di filo, in modo tale da non stringere troppo. E ricominciamo. Quindi, abbiamo fatto il quinto. Quindi, uno, due, tre, quattro. Dobbiamo infilare il ferro di destra nel quarto buchino. andiamo a fare un diritto. Lo facciamo uscire. E tiriamo. Non stringete, perché altrimenti diventa troppo stretto il lavoro. Stessa cosa. Facciamo con il terzo. Quindi, diritto. E tiriamo. Lo facciamo per il quarto. E tiriamo. Adesso si stanno ok. E per l'ultimo. Quindi qua. Ok? Adesso abbiamo ovviamente cinque maglie. Una, due, tre, quattro e cinque. Cosa facciamo? Le lavoriamo a diritto ritorto. Quindi le portiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo a diritto ritorto. In questo modo. Ok? Questa maglia la riportiamo sul ferro di sinistra e la lavoriamo a diritto ritorto. E la lavoriamo a diritto ritorto. Proseguiamo con otto diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. e due maglie insieme a diritto. Ripetiamo questo motivo. Chiudo il ferro con un rovescio, tre diritti. Uno, due, tre e un rovescio. Naturalmente il vivagno. Il dodicesimo e ultimo ferro. Andiamo a lavorare il vivagno, un diritto, tre rovesci. Uno, due, tre, un diritto. Vado a ripetere il motivo centrale. Dieci rovesci. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci. Un diritto e tre rovesci. Uno, due, tre. Un diritto. Andiamo a ripetere questo motivo centrale. Allora, come potete vedere, il motivo è praticamente terminato. Per ripeterlo, non dobbiamo far altro che ripetere i ferri dal numero uno al numero dodici. Il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao!